la sosta camper trinacria si trova su una vasta pianura all'interno di un prato di fronte al mare nel golfo di milazzo lungo il lungomare di marchesana che è una frazione del comune di terme vigliatore messina di fronte alle isole eolie è un punto di partenza conveniente per visitare le isole eolie questo luogo offre tutte le comodità necessarie per un soggiorno gradevole ed economico ed è possibile sostare sia per brevi che per lunghi periodi l'area dispone di ampi spazi destinati al parcheggio di camper roulotte tende sono disponibili servizi come l'elettricità il camper service il rifornimento d'acqua e i servizi genci inoltre c'è un'area giochi per i bambini campi da beach volley e calcetto è possibile anche organizzare escursioni alle isole eolie e nelle zone circostanti inoltre è offerta la possibilità di noleggiare auto moto scooter e barche nelle vicinanze si possono trovare negozi di alimentari supermercati e il villaggio di marchesana qui in basso in descrizione troverete informazioni utili e dei link per prenotare hotel o bed and breakfast se avete dei dubbi o delle domande scrivete nei commenti in basso e vi risponderemo al più presto aiutateci a crescere mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale grazie e ci vediamo al prossimo video